Bene ragazzi sono Daryl e sono tornato con un nuovo episodio di Cat Mario e questo è l'ultimo dove faremo gli ultimi due livelli, sarà un episodio finale e conclusivo della serie e ho visto che comunque la serie vi è piaciuta abbastanza, anche se non l'avete seguita in molti, forse perché Cat Mario comunque non è un gioco che piace a molte persone, ma quelli che l'hanno seguita comunque gli è piaciuta molto. Quindi l'ho portata fino a termine e c'è ancora non è detto perché insomma dobbiamo fare questi due livelli che visti quelli prima non so come saranno questi, quindi vabbè andiamo subito a fare i livelli dai. Allora, dunque qua com'è? Così? Tutto così è il livello? Oddio. Ecco. Cioè abbiamo capito che il livello praticamente è così, tutto sale e scendi. Dai, 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 sono un po' monotone, dai, oh finisce più, è finito. Ma che è? C'è qualche trucco sotto. Cioè già ho finito il livello 5. Vabbè, quindi non sarà un livello extra large, cioè, due risultati insieme, ma è come se fosse uno perché è durata più l'introduzione che il quinto livello praticamente, va bene. Cioè è facilissimo insomma. Allora questo? Che cazzo è? Che cazzo? Oddio. Questa è tutta coordinazione, mi sa, eh? Non mi dite come 5 che è uguale, non mi dite. Allora, questo è più difficile però, eh. Porca troia. Allora, allora, dance, 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 dance. Cioè è totalmente uguale che mi danno il copyright. E porca puttana però. Attenzione, attenzione. E vabbè ma... Come cazzo tocca sarta sopra tutti questi cosiddetti, questi fantasmini qua. allora allora morim 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 e vaffanculo sarà comunque un episodio extralarge perché per quanto tempo ci porta via questo ha recuperato quello del 5 Cristo ok no perché mi so fermare non ti devi fermare non ti devi fermare ma cosi ti dicono fermate perché devi essere trasgressivo vai vai un toccaserta su quello ok 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 oh cristo sono un po' no era finita mannaggia la miseria era finita era oddio allora salta sopra questo ok salta sopra il secondo ok salta cristo allora vai così sul secondo vai mamma mia come l'ho ripresa qua è vaffanculo ovviamente ci stiamo avvicinando salta su quello ok salta 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 perché mori mori male oddio 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 mi sta salendo nervoso mi sta salendo il veleno mi sta salendo tutto quanto bottiglia di merda che mi fissa mi fissa mi fa sbagliare ci devo salta sopra quello eh vabbè impossibile così impossibile porca troia salta salta perché si muori su quello perché sempre su quello salta salta mamma mia quanto mi stai sul cazzo questo è il punto peggiore oddio l'ho superato mamma mia no se noi siamo a 100 un like per i 100 per i 100 morti grazie in questo momento e anche per le 101 due like tant'anno no non è vero che cadena morta sola non mi è uscire rotto che fail vabbè oddio allora adesso io mi ammazzo a tutti quanti ok non vedo l'ora di non sentirla più sta canzone salta sopra vai bello vai bello vai bello e vaffanculo sai quando proprio sai che sei morto non sai che devi fare ecco quella è la sensazione questo è fondamentale saltaccio se non salti su quello non puoi andare avanti oddio zitti tutti non facciamo cazzate dimmi che ci ho fatto dimmi che è finita dimmi che è finita ti prego dimmi che è finita dai olè è finita ragazzi la serie catmara è finita potete considerarmi qui sotto altri giochi simili se volete vederli e sto godendo dentro anche se voi non lo vedete perché mi sono arrivato dal cazzo questo merda di gioco e niente lasciate un like se vi è piaciuto mi invito ad andare sulla pagina facebook c'è instagram trovate tutto in descrizione mi raccomando controllate tanto fate mostra tutto mostra altro quello che cazzo è e guardate tutto quello che c'è in descrizione fateci dateci un'occhiata e niente e ci becchiamo alla prossima bella che ci becchiamo alla prossima